Forse ci siamo, ho comprato le ciotoline per loro, sono quattro, ho messo la pentola dell'acqua con l'altra ciotola e adesso aspettiamo che entrino gli altri due. Vieni, vieni a fare la pappa, nonnino. Vieni, 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 vai, vai. Amore, vieni a fare la pappa, mamma, vieni. Ok, ok, ok. Questo, grazie a voi. Ciao amori nostri, ciao amori nostri. Non ho pulito proprio alla perfezione come faccio sempre. Domani andrà meglio per tutti. Baci. Notte, Angeli. Chiaramente adesso rimano a guardare che mangino tutti, ma sono certa perché si vede che sono abituati a stare insieme. Magari anche a casa facevano la scelta della ciotola loro, ma non litigano, vero Lillia, amore? Eh? Eri imparitissima oggi. Adesso mi scodinzo. Vieni qua, dolce. Vieni. Mano a mano ci riusciremo, vero? Tu, vecchietti? Eh? Sei ancora magrolino. Bellissimo gesto che stiamo facendo, ragazzi. Veramente bellissimo gesto. Avevano una casa. Io erano una bella stanza. Che ve ne pare, piuttosto che andare a finire in canile a calappiati dall'asra? Ce l'abbiamo fatta, anche questa volta. Verro, Lillia? Notte. Grazie a tutti.